Caramello salato e mandorle per una cheesecake pazzesca Inizia riducendo i biscotti in farina, aggiungi il burro fuso e fai amalgamare Versa sulla base di uno stampa a cerniera, livella col cucchiaio e metti in frigo Metti in ammollo la gelatina del latte freddo e monta la panna Aggiungi lo zucchero e il formaggio spalmabile e continua a montare Sciogli la gelatina a fiamma bassa e aggiungila alla crema attraverso un colino Completa con qualche goccia d'essenza di vaniglia, trita grossolanamente le mandorle tostate e aggiungile alla crema Mischia bene, versa sulla base in frigo per due ore Adesso facciamo la salsa al caramello salato Fai sciogliere lo zucchero a fiamma molto bassa, unisci la panna calda anch'essa Completa con un pizzico di sale e filtra la tua salsa Estrai la torta dallo stampo e completala con questa squisitezza Porta anche il caramello salato in tavola, così chi vuole potrà aggiungerlo alla sua fetta In Sicilia diciamo, non si può l'uvare rauca Buonissima!